abbiamo concluso oggi questo corso di chirurgia e implantologia articolato in un primo giorno di teoria e altri due di pratica dove siamo riusciti a mettere diversi impianti su paziente ed è stato un corso che ha trasmesso delle informazioni molto importanti è stato un corso che ci ha messo sicuramente a me ha messo molto a mio agio i tutor sono state delle persone fantastiche consiglio a tutti i miei colleghi di frequentare questo corso della dj academy perché è un corso in cui si può imparare veramente tanto è un corso in cui si trova veramente bene e l'anno prossimo lo rifarò sicuramente anch'io per uno step avanzato del del percorso